Tu, uomo, conosci l'importanza delle emozioni. Tu, donna, sai quanto sia fondamentale l'amore. L'amore per un oggetto di classe, per un gesto passionale, per un gesto di cuore. Un oggetto firmato Aldo Carlin. Aldo Carlin, gioielleria, oreficeria, orologeria. Aldo Carlin, dal 1959, valorizza il tuo sentire, il tuo amare, il tuo conquistare con creazioni privilegiate della linea Ottaviani. Istinto di passione, gioielleria, oreficeria, orologeria. Aldo Carlin, intense emozioni da mare. A Donada di Porto Viro. Se dico sottosopra, tu pensi al corredo più raffinato, alla biancheria più esclusiva, alle grandi idee di intimo lui e lei. Ma sottosopra, con l'arrivo delle collezioni autunno e inverno, ti riempie di novità. Per tutti gli sposi che prenoteranno la lista nozze, un omaggio irripetibile. E con l'operazione Rottamazione, valutiamo la tua vecchia coperta, coprivetto o piumone, fino a 120 euro sull'acquisto di un nuovo piumone Daumenstep, l'unico originale dell'Alto Adige. Sottosopra, salta il tuo inverno con le nuove collezioni di Blade di ogni colore e prezzo. Via le Arbatax, Tortoli. La vidi sfoggiare con estrema classe tutto il suo entusiasmo. La vidi sorridere la vita con armoniosa disinvoltura. La vidi ballare mentre catturava col suo look da star l'attenzione di tutti. La osservai per l'intera serata. Poi riuscì finalmente a incrociare anche per una sola volta i suoi occhi neri. Occhi neri. L'abbigliamento per la donna dinamica e seducente. La classe e la moda che accenderanno al meglio il tuo fascino. Occhi neri, con le marche più prestigiose come Sottotono, Scinew, Vanilla Pop, NJV. Occhi neri Fashion Store, Dimonia e Graziano Assenza. Via Bixio, Angolo Corso Veribaldi a Scicli. Occhi neri, decisamente donna. Natale in lancia. Vida, concessionaria lancia per le province di Udino e Venezia propone Lancia Y e Lancia Musa a condizioni irripetibili. Inoltre, scontro rottamazione. Finanziamenti a tasso zero fino a 60 mesi e 5 anni di garanzia. Lancia Vida, la concessionaria vincente alla Tisana Codroico e Porto Gruaro. Sabato primo aprile, Scrimedelica presenta Viola in concerto. Violante Placido in un concerto esclusivo al Circolo degli Artisti per presentare i brani del suo esordio discografico. Dombi Shy. A seguire, discoteca in due sale. Sala piccola, Fishing Chips DJ Set. Sala grande, selezioni Alternative Rock con Fabio Luzzietti. Ingresso 6 euro, gratuito dopo la mezzanotte. Scrimedelica e ogni sabato sera al Circolo degli Artisti in via Caslina Vecchia 42. Info www.circolartisti.it Fisberica.it 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 Grazie.